Buonasera e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale in onda come sempre sul canale 12 del digitale terrestre ma anche in streaming nell'app DTV, nel nostro sito online e naturalmente nella nostra pagina Facebook. In apertura il terribile incidente di questo pomeriggio a Falconara in via Flamini all'altezza della farmacia Palombina. Terribile impatto tra una moto e un'auto. Il Centauro Trentenne è stato successivamente trasportato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torretti. Si tratta di un giovane di 31 anni che era alla guida di uno scooter mentre viaggiava verso Ancona. Si è schiantato contro l'auto guidata da una donna che veniva invece dalla direzione opposta e stava svoltando per entrare in una strada privata. L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio è stato il giovane volato dal suo scooter. Nonostante indossasse il casco ha riportato ferite gravissime e un profondo trauma cranico. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto era privo di sensi. È stato rianimato nel luogo intubato e trasferito successivamente con codice di massima gravità all'ospedale di Torrette. Sotto shock la donna sul posto per i rilievi. La polizia locale di Falconara. Ancora cronaca questa volta dal nostro sito. Parliamo dell'omicidio Albertini perché è arrivata la condanna definitiva per Giobbi. 8 anni e 4 mesi. Parliamo dell'omicidio di Giovanni Albertini avvenuto il 18 febbraio 2016 in Piazza del Popolo. Ad Ascoli Piceno la corte di Cassazione ha fissato la pena in 8 anni e 4 mesi appunto. Riducendola di 4 mesi rispetto all'ultimo verdetto di appello. La procura di Firenze ha quindi dato ordine ai carabinieri di arrestare Giobbi e di portarlo in carcere per scontare la pena. Per lo stesso fatto sta scontando la condanna definitiva a 12 anni di carcere. Danilo Damiano Chirico, ex collaboratore di Giustizia. Ora la pagina politica perché è andato in scena il battesimo di Daniele Silvetti. Primo consiglio comunale oggi ad Ancona. È stato eletto presidente del consiglio Simone Pizzi, vicepresidente Francesco Rubini dell'opposizione. Ci racconta tutto Laura Meda. È un ruolo molto importante perché serve a coordinare tutta l'attività del consiglio comunale che come è stato chiesto a tutti i consiglieri comunali deve riacquisire un ruolo chiave nell'attività amministrativa di questa città. E poi il ruolo fondamentale è quello di indirizzo e controllo come è stabilito dallo statuto. È Simone Pizzi, 45enne medico anestesista, dirigente presso l'ospedale Salesi, eletto nelle file di Ancona protagonista, il nuovo presidente del consiglio comunale Dorico. Su scelta quasi unanime, 31 le preferenze ricevute dal medico. Sono molto molto grato sia ai colleghi della maggioranza per aver indicato il mio nome ma anche a quelli dell'opposizione per aver accettato questa proposta della maggioranza. Salta invece la candidatura di Arnaldo Ippoliti, motivi lavorativi e di famiglia, spiega lo stesso Ippoliti in consiglio. Vice presidente sarà Francesco Rubini di Altra Idea di Città scelto tra le file dell'opposizione. Si inizia dunque con un positivo accordo tra maggioranza e opposizione nonostante alcune premesse non proprio beneauguranti. Ho potuto notare che c'è stato parecchio teatrino nelle decisioni da prendere per formare la giunta e mi pare anche per scegliere il presidente del consiglio. Ma noi misureremo sui fatti questa giunta, abbiamo la responsabilità nei confronti di tutti i cittadini e anche quelli che hanno votato per questa maggioranza. Inizia da qui, ha detto il neosindaco Daniele Silvetti, il nuovo governo della città di Ancona. È un inizio importante per la città tutta, per il popolo anconetano e su quello mi aspetto ovviamente grande coesione, momenti strategici, momenti decisivi delle grandi scelte di questa città. Dal canto suo, Ida Simonella, seduta per la prima volta tra le file dell'opposizione, si è detta pronta soprattutto a vigilare sul corretto uso delle risorse ottenute dal comune. È la prima volta che siamo seduti da questa parte, che è una parte comunque di grande responsabilità, perché abbiamo la responsabilità di vigilare, di vigilare su quello che è il patrimonio, anche di quello che è stato portato dalle precedenti amministrazioni. Io mi riferisco sempre alla questione PNRR perché è la questione più calda e anche la più urgente. Quindi noi vigileremo per esempio che quegli investimenti, quegli 80 milioni, vengano calati a terra. Ancora politica perché questa mattina il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha fatto tappa ad Ancona, ha fatto il punto sullo sport e l'inclusione. Ha detto le Marche sono una regione che in questo ne supera tante altre. Sentiamo. Marche, sport e società ieri, oggi e domani a chiederselo sono tutti i giorni allenatori, sportivi e addetti ai lavori che vivono il mondo dello sport, lo sport sano. Quello che crea benessere e inclusione, a domandarselo, è stata anche la comunità sportiva delle Marche, all'interno dei quattro convegni tenutisi a Fano, Fermo, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto lo scorso mese di aprile. Una riflessione sull'avvenire dello sport marchigiano, conclusa oggi con l'arrivo ad Ancona del ministro Andrea Abodi. La consapevolezza di ciò che c'è, ma anche la lucidità di individuare ciò che manca. L'appuntamento di oggi sarà in parte un contributo proprio all'agenda futura della collaborazione tra il Governo nazionale e il Governo regionale con tutte le sue articolazioni in ambito sportivo, quindi CONI e CIP. Io punto molto, ma qui trovo, terreno fertile, non soltanto l'inclusività ma anche la coesione, per superare tutte le differenze, le distanze che ci sono tra quello che vorremmo e quello che ancora c'è. Qui siamo molto avanti rispetto a tante altre regioni d'Italia, ma c'è anche la voglia di ulteriori avanzamenti del livello di civiltà attraverso lo sport. Oltre alle opportunità che riguardano il mondo paralimpico, l'attualità sta facendo emergere necessità di pari opportunità di genere, di cultura, di estrazione sociale. Ne sono consapevoli il CONI regionale e il Comitato Paralimpico delle Marche, insieme per una strategia che porti alla crescita e allo sviluppo del movimento sportivo regionale applicato alle pari opportunità. Questo per favorire anche la pratica dello sport ad alto livello. Ci spostiamo ora a Colli del Tronto e cambiamo completamente pagina perché si sta svolgendo la 32esima convention delle Camere di Commercio italiane all'estero. Oggi più di 300 imprese marchigiane hanno incontrato i rappresentanti esteri per capire quali sono le opportunità e i flussi di export. Le marche guardano sempre di più all'estero a dirlo, sono i dati export in crescita per la regione. Le piccole e medie imprese del territorio, distretto calzaturiero, agroalimentare ma anche moda, mobile e start-up, hanno incontrato a Colli del Tronto le Camere di Commercio italiane all'estero. L'occasione è la 32esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, promossa dalla Camera di Commercio delle Marche e Asso Camere Estero, in collaborazione con Union Camere e la Regione Marche. La mia azienda personalmente sta cercando Est Europa e Regno Unito perché poi dopo l'uscita, dopo il fatto della Brexit, è chiaro che il mercato comunque è cambiato anche in Inghilterra. Quindi il tentativo è quello di creare le basi in questa giornata odierna. Sono venuto qui a Colli del Tronto per parlare con tutti i funzionari, tutti i addetti delle Camere di Commercio internazionali, per cercare nuove opportunità di lavoro, magari possibili mercati nuovi emergenti per cercare di vendere le calzature. Noi siamo una start-up innovativa nell'ambito del software e abbiamo sviluppato una soluzione per la gestione del processo di etichettatura delle industrie alimentari. Ad oggi siamo focalizzati molto sul mercato locale per cui questa è un po' l'occasione per esplorare anche tutto quello che è il mondo dell'export. Più di 300 imprese, 1400 incontri B2B con i delegati delle Camere italiane all'estero, un vero e proprio hub di internazionalizzazione del Made in Marche, un'occasione di lancio per tante imprese della regione per capire dove e come orientare i propri flussi di export. Il dato complessivo di quello che potrà produrre questo enorme sforzo che abbiamo fatto, lo potremmo avere nelle prossime settimane, vedendo quale Camere di Commercio hanno avuto i contatti più interessanti o dove hanno fermato dei contratti di servizi che le imprese hanno chiesto alle Camere di Commercio all'estero per poter entrare in quei mercati, conoscere le normative, conoscere le fiere, realizzare magari degli incoming. E' qui il posto in cui tutto il mondo in questo momento è presente, in una fase in cui le nostre esportazioni continuano a trenare lo sviluppo dell'Italia, dobbiamo necessariamente portare il mondo sui territori, far sì che quell'enorme patrimonio di piccole e piccolissime imprese che caratterizza il nostro paese sia facilitato e riesca in maniera rapida a accedere sui mercati del mondo che in questo momento si stanno muovendo meglio. Le marche ci sono, ripartono alla grande, il nostro export, come dice il Presidente Sabatini, è fortemente in aumento, questo ci fa molto piacere. Rimaniamo nell'Ascolano, ci spostiamo ad Ascoli Piceno perché il Comune ha varato un bonus natalità valido dal 1 luglio al 31 dicembre. Capiamo di cosa si tratta insieme a Giacomo Giampieri. Contro l'attavico problema italiano della denatalità, il Comune di Ascoli vara un bonus nuove nascite che sarà valido dal 1 luglio fino al 31 dicembre. Contributi una tantum di 200 euro per il primo figlio, 300 per il secondo e fino a 400 per l'eventuale terzo. Saranno concessi alle famiglie con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro che avranno figli o li adotteranno in questo periodo. L'intenzione è contrastare il deficit di neonati che sta caratterizzando purtroppo anche il territorio piceno, creando uno squilibrio in rapporto al numero dei decessi. È un fenomeno importante e anche preoccupante e quindi abbiamo messo in campo diverse misure. Una su tutto è questa di dare un bonus di 200 euro a chi mette al mondo il primo figlio, poi se è il secondo 300 euro, se è il terzo e il quarto 400 euro. Questo bonus non risolve il problema, però è un messaggio importante e insieme a questo bonus stiamo studiando misure diverse per creare proprio una strategia a favore delle nuove nascite. Integrandosi a precise politiche governative e regionali, l'amministrazione Fioravanti vuole promuovere un percorso organico per ovviare alla denatalità, coinvolgendo una pluralità di enti e soggetti, tra le prime mosse anche l'istituzione della festa dei figli, che verrà celebrata ogni 15 giugno a seguito di una mozione approvata in consiglio comunale. Da una parte diciamo uno spazio ludico per i bambini, da una parte uno spazio di riflessione e abbiamo consegnato anche dei kit per i bambini e per le famiglie. Quindi anche queste iniziative culturali servono per stimolare e incentivare soprattutto non tanto le nascite, ma proprio come dicevo prima, proprio dando un messaggio forte alle famiglie dove il comune è al tuo fianco, anche quando una donna è incinta subisce un cambiamento anche psicologico. Quindi far capire che le donne non sono solo e nemmeno quando sono incinta, soprattutto le istituzioni sono protagoniste per cercare anche di far sentire la famiglia, la coppia all'interno di una grande comunità e non soli. Ci spostiamo ora a Macerata, torniamo un attimo sulla crona che lo facciamo attraverso il nostro sito online www.etvmarche.it perché il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata al termine di un'articolata indagine nei confronti di una società di verniciatura, di calzatura, ha effettuato il sequestro preventivo dell'intera azienda che si trova appunto in provincia di Macerata. Nelle scorse settimane i carabinieri del NIL hanno monitorato un'azienda operante nel settore del manifatturiero riscontrando criticità relativamente alle gravi condizioni di salute e sicurezza a cui erano esposti i dipendenti. Il monitoraggio dell'azienda ha fatto desumere ai militari un probabile impiego di mano d'opera. 15 lavoratori identificati all'interno dell'impresa senza alcuna tutela in materia di salute e sicurezza. I militari hanno quindi effettuato un primo accesso ispettivo che ha determinato la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione nei giorni successivi. Però i titolari dell'attività, raccontano i carabinieri, hanno proseguito incuranti la loro attività. Pertanto il reparto del NIL di Macerata ha effettuato un ulteriore controllo durante il quale ha accertato il proseguio dell'attività lavorativa nelle stesse condizioni in cui avevano trovato in primo accesso considerato il permanere delle violazioni già contestate e delle ulteriori emersi carabinieri in accordo con la procura di Macerata hanno effettuato il sequestro preventivo dell'azienda per un valore di 300 mila euro. Rimaniamo a Macerata e cambiamo completamente pagina perché grande successo per Estivum la manifestazione dedicata al tartufo e organizzata dall'Unione Montana Marca di Camerino che ha visto nella giornata di sabato confluire a Muccia tantissimi appassionati di tartufo. Per noi c'era Roberto Properzi. Lo splendido contesto del mulino di Varano di Muccia è stato lo scenario perfetto per l'iniziativa Estivum un evento di benvenuto all'estate con prodotti del territorio organizzato dall'Unione Montana Marca di Camerino. Abbiamo scelto una location straordinaria dove l'acqua è dominante all'interno di questa struttura con una partnership che è quella di Varnelli che rappresenta un brand del territorio lanciamo l'aperitivo della marca di Camerino, uno spritz a base di Varnelli appunto Amaro Sibilla poi un vino di Matelica che rappresenta sempre il nostro territorio e il resto va scoperto venendo qui a visitarci. Gentilucci poi ci parla di rilancio del territorio con la Foligno Civitanova come direttrice fondamentale dello sviluppo. Nell'uscita proprio qui a Muccia che rappresenta la centralità del nostro territorio. Ecco, l'appello che noi rivolgiamo alle istituzioni è di darci una mano sulla ricostruzione in particolar modo sul super bonus e sulle ricostruzioni pubbliche. Qui da Muccia parte questo appello ma con uno spirito positivo e propositivo di un territorio che voglia di rinascere. Estivum è inserito nell'evento principale Terre del Tartufo che ora più che mai è divenuto un brand territoriale. Si inizia adesso celebrando l'imminente ingresso della stagione estiva, quindi Estivum. Poi si andrà avanti negli altri comuni della marca fino alla grande conclusione a Pievetorina fine novembre dove si parlerà proprio di Tartufo, le terre del Tartufo, si chiama quell'evento, il gran finale. Ora vi raccontiamo una storia curiosa. Guardate queste immagini arrivate in redazione proprio questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti a Colli al Metauro per recuperare un vitello caduto in una scarpata. Le operazioni sono state condotte con l'ausilio dell'elicottero, dei vigili del fuoco del reparto volo di Arezzo assistito a terra dalla squadra di Fano e dal veterinario che ha poi collaborato nelle fasi preliminari. Il vitello è stato poi riconsegnato al suo proprietario. In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento della Regione Marche e PSR Marche che vi mostriamo in sovraimpressione perché la Regione e PSR appunto propongono un ciclo di incontri organizzati sul territorio per presentare bandi aperti e di prossima emissione fornendo anticipazioni sulla programmazione 2023-2027. Continua quindi l'impegno da parte delle istituzioni per realizzare una nuova visione dell'agricoltura marchigiana che sia innovativa, sostenibile e tecnologicamente avanzata. Il prossimo incontro sarà giovedì 22 giugno alle ore 17.30 a Rocca Fufluvione presso l'hotel Ristorante Donna Rosa si parlerà del bando filiera legno recupero Castagnetti. Non ci sono aggiornamenti, il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre sui nostri canali. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri canali.